Addirittura il sequestro di un appartamento. Questo è il risultato tra gli altri del continuo lavoro della Polizia di Stato a contrasto delle attività di spaccio di droga. L'ennesima operazione è portata avanti dai poliziotti della squadra mobile della questura di Taranto che nei giorni scorsi avevano rivolto la loro attenzione verso un giovane incensurato poco più che maggiorenne che nel complesso residenziale Bestat avrebbe messo in piedi una presunta attività di spaccio di cocaina. Il 19enne dal primo pomeriggio fino a Nottefonda riceveva i numerosissimi clienti in un appartamento ubicato al quarto piano di uno degli stabili di quel complesso residenziale ben protetto da una grata in ferro e con l'ausilio di complici che fungevano da vedetta. Dopo essere riusciti abilmente a eludere il controllo delle vedette i falchi della squadra mobile hanno bussato alla porta del giovane riuscendo ad entrarvi nonostante il disperato tentativo di chiudere la grata in ferro. I falchi hanno trovato sul tavolo da cucina cocaina in dosi e hashish ma il fatto più clamoroso è che l'appartamento non ammobiliato è risultato occupato abusivamente dal giovane ed usato esclusivamente per la presunta attività a dispaccio. Pertanto è stato posto sotto sequestro con la posizione dei sigilli ed affidato in giudiziale custodia e rappresentante dell'ente proprietario. Un fatto che apre altri interrogativi che riguardano la sicurezza di questi stabili. Trasmessi gli atti e le autorità giudiziaria competente il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in casa dei genitori.